Arrestati 15 lavoratori del cimitero Parco dal nucleo investigativo dei carabinieri di Torino, responsabili di vari reati, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falsificazione di atti, peculato, distruzione, soppressione e sottrazione di cadavere, ricettazione e concussione. L'indagine è nata da una denuncia del 26 ottobre 2016 di Michela Favaro, amministratore delegato di AFC Torino Spa, Servizi Cimiteriali della Città, che ha segnalato comportamenti potenzialmente illeciti di alcuni operatori cimiteriali in servizio al cimitero Parco durante l'esumazione delle salme. Nel corso delle indagini che hanno confermato la denuncia sono stati riscontrati un'attribuzione illecita di denita agli operatori cimiteriali, il percepimento da parte dei lavoratori cimiteriali di somme di tenaro da privati per lo svolgimento delle loro attività e l'appropriazione di beni sottratti ai cadaveri. Sostanzialmente molti cadaveri venivano derubati degli oggetti preziosi posti all'interno del feretro durante le operazioni di recupero dei resti a 10 anni dalla sepoltura in terra o a 40 anni da quella in un loculo. Altre irregolarità hanno riguardato anche le procedure successive all'estumulazione. Le norme prevedono che se i cadaveri sono scheletrizzati le ossa vengano risposte nell'ossiero comune, oppure in cellette dove possono essere contenuti i resti di altri parenti. Se invece il cadavere è ancora indecomposto è obbligatoria la cremazione con i costi a carico di AFC. Gli operatori, per fare questo, godono di un'identità aggiuntiva di 20 euro a testa, che spesso veniva incassata ingiustamente perché i controlli effettuati hanno dimostrato che quasi sempre i cadaveri erano ormai scheletrizzati. L'assessore comunale ai cimiteri Marco Giusta ha commentato il caso. Aspettavamo da mesi la chiusura dell'indagine, ora finalmente possiamo agire. Da quando è stata presentata la denuncia abbiamo iniziato, assieme alla dottoressa Favaro, a mettere in campo misure correttive, alcune già operative, altre pronte ad essere avviate, grazie anche a una interlocuzione con l'assessorato alla sanità regionale per la presenza di un medico legale durante le operazioni. Ci tengo particolarmente a ringraziare gli inquirenti per l'importante lavoro svolto.